Fausto Rossi, dopo la pausa estiva venerdì riparte la trasmissione del salotto del signor Rossi, di che cosa si parlerà? Parliamo delle elezioni in provincia, ora non è che il tema sia di per sé tanto appassionante, però questa provincia è votata alle elezioni, ha continue campagne elettorali, ne abbiamo finita una che è poco per il comune della Spezia, abbiamo questa che riguarda però i sindaci e abbiamo già aperta quella per il comune di Sarzana, insomma l'argomento sarà sindaci al voto riferito alla provincia, però gli argomenti spazieranno un po' su quello che è avvenuto nel capoluogo, un assunto dell'attività svolta dall'amministrazione ed anche qualche retroscena sulle candidature che si profilano per il rinnovo del Consiglio Comunale di Sarzana. Venerdì sera gli ospiti saranno Gian Pedrone, l'assessore regionale, la segretaria provinciale del PD, la Pecunia, ci sarà Francesco Battistini e Maria Grazia Fria. Inizio quindi dedicato alla politica ma durante l'anno si parlerà anche di altro? Certamente, la politica è ovviamente una cosa importante, anche l'amministrazione, però daremo spazio nelle future puntate anche a temi di attualità e di costume legati anche alla cultura, quindi cercheremo di spaziare su tutti i fronti, cercheremo ovviamente di affrontare i vari temi ma sempre con filo comune, temi che ci vengono prospettati dalla cronaca del momento, cercheremo di affrontarli quando queste cose vengono in evidenza.